Vedete? Mamma mia. Oddio. Oggi Chocolate Chip Cookies, la ricetta dei classici biscotti americani con le gocce di cioccolato. Il profumo è iconico. La possiamo definire ricetta definitiva questa qua, vi assicuro, dovete assolutamente provarla. Questa cosa la possiamo dire perché avendo a disposizione Cooks, che è il ricettario americano più affidabile in assoluto, cioè non pizza e fichi, diciamo così, possiamo proprio, sì, assaporare dei cookies pazzeschi. Qua dentro ci sono tutti i consigli e dei segreti che non conoscevo nemmeno io per avere dei cookies veramente eccezionali. Io non ho mai sentito dei cookies così profumati, dei cookies dalla consistenza così perfetta e vi assicuro che non sono dei classici... Cioè tanti pensano, ah beh, i cookies frolla con gocce di cioccolato, no. E se quando li avete assaggiati avete avuto quell'impressione significa che non era la ricetta giusta. Sono proprio dei biscotti che meritano una cornice attorno. Possiamo, se volete, iniziare. Come sempre la ricetta la trovate scritta sul blog, però prima vi consiglio, insomma, di vedere tutto il video che vi spiego tutti i passaggi qua. A disposizione abbiamo ingredienti semplicissimi che poi vi racconto. Prima cosa che dobbiamo fare, pensate un po', è sciogliere la prima parte di burro, quella più abbondante. Dobbiamo, oltre che farlo sciogliere, addirittura renderlo nocciola. Questo è uno dei segreti che Cooks proprio spiega all'interno. Ragazzi, il burro deve proprio diventare nocciola e avere un retrogusto di nocciola, di frutta secca, perché poi gli ingredienti mescolati assieme renderanno il tutto ancora più poetico. Quindi, dopo questo passaggio che dovrà essere fatto, mi raccomando, a fiamma medio alta, potete usarla, la fiamma medio alta, però dovete continuare a rimestare, come faccio io, affinché il burro si rosoli in modo omogeneo. E dovete stare attenti che non bruci, perché se raggiunge il punto di fumo poi risulta amaro. Voi trasferite il burro arrostito nella ciotola insieme all'altra quantità di burro, quella più piccola, che avete tenuto da parte. E questo servirà anche per raffreddare più velocemente il burro che avete scaldato due secondi fa. Quindi, fatto questo, aggiungiamo tutti gli altri ingredienti, che sono zucchero di canna, che non dovrà essere lo zucchero di canna che trovate di solito nei supermercati, quello base-base. Prendete, se potete, lo zucchero di canna o moscovado, oppure uno zucchero di canna integrale, però più umido, lo vedete proprio dalla confezione, perché se lo palpate risulta un pochino più appiccicoso, lo vedete proprio che è umido dentro. Questo altro segreto per avere dei biscotti dalla consistenza migliore. Quindi, mi raccomando, andate in un supermercato ben fornito e questo sicuramente lo troverete, perché se lo trovo io qua in zona, cioè sicuro voi lo troverete al 100%. Aggiungiamo anche dello zucchero semolato classico. Pizzico di sale, che deve essere abbastanza abbondante, perché in questi biscotti è bello sentire questo lieve retrogusto salatino. Estratto di vaniglia oppure vaniglia in bacca. Cominciamo a mixare il tutto. Inizialmente farete un po' fatica a far rassodare il burro, magari si deve ancora del tutto raffreddare, ma poi si farà in fretta a vedere questa spuma che comincia a crearsi. Ottenuta quindi questa bella crema, aggiungiamo un uovo intero e un tuorlo e vedrete che poi la crema si forma subito. Farina bianca, classica, per tutti gli usi, qua c'è scritto io vi consiglio la classica farina zero e bicarbonato, sì, perché gli americani usano molto spesso il baking soda, quindi il bicarbonato, no? Mescoliamo, già che ci siamo con le fruste, molto velocemente e poi cosa aggiungiamo un po' prima delle gocce di cioccolato? Aggiungiamo ancora una cosa che serve per esaltare il sapore di tutto l'insieme. In questo libro ci sono due ingredienti che possono farlo, noci pecan o noci classiche, oppure polvere di caffè. Io, per farvi vedere, ho voluto dividere l'impasto in due e in uno aggiungere un ingrediente che esalta i sapori, che sono le noci, e nell'altro invece la polvere di caffè. Se usate le noci dovete prima tritarle come se fossero una granella e poi tostarle per esaltare anche a loro il sapore e aggiungerle all'impasto quando sono tiepide o addirittura a temperatura ambiente. Se invece usate la polvere di caffè, che ovviamente è ancora più pratica, molta meno, basterà un cucchiaio raso, un cucchiaino raso, lo aggiungete all'impasto e mescolate. Questi due ingredienti veramente rafforzeranno i sapori e creeranno anche qua poesia, cioè proprio veramente leopardi. Dopo questa aggiunta, cioccolato fondente. Se aveste a disposizione le gocce americane sarebbe bellissimo perché sono belle grandi, ma siccome non si trovano facilmente, piuttosto che le gocce di cioccolato nostre che sono piccoline, pezzi di cioccolato fondente al 70%, tagliati grossolanamente giù nell'impasto, mescoliamo. Meraviglia che vi mangereste anche da cruda, veramente l'ho detto anche lì, anche questa cosa su Instagram. Dopo aver formato i cookies, grazie all'aiuto o di uno spallinatore o con le mani, dovranno essere abbastanza grandini. Dovete proprio formare delle belle pagnotte, delle belle sfere. E queste, una volta disposte in una pirofila, come nel mio caso anche attaccate, bisogna farle riposare almeno un'ora, ma se potete farle riposare anche di più, anche 12 ore, meglio che così i sapori si amalgamano ancora meglio, i cookies proprio veramente, anche questo c'è scritto, risultano più saporiti. Quindi se avete tempo, perfetto, fate così, altrimenti va bene anche un'ora sola. Dopo questo tempo, prendiamo le palline, le sfere, le disponiamo su un foglio di carta forno, io vi consiglio massimo 7 a teglia, perché poi veramente si dilatano, se potete 6 io direi meglio, e poi forno 180 gradi statico, zona centrale, farei dai 12 ai 14 minuti. Togliete ovviamente la placca, lasciate raffreddare, se non le mangiate subito, cosa che è molto complicata, li potete mettere direttamente nelle scatole di latta, non è conservarli lì. Sappiate che saranno perfetti anche sotto Natale, ad esempio, se volete dei biscotti molto goduriosi, che hanno un gusto soddisfacente, pieno, ma arrivano da un'altra zona, ci sta, fate un po' i, come dire, gli esotici, no? Ci sta. Quindi nulla raga, la ricetta era questa, io, io spero tanto l'abbiate apprezzata, ero un po' indeciso a cosa proporvi, ma poi con l'arrivo delle basse temperature, secondo me è perfetta questa. E poi sinceramente, visto che tra un po' vado a New York, mi piaceva molto New York City, mi piaceva molto proprio farvi questa ricettina americana. Molti pensano, ah, le ricette americane non sono fini, non sono studiate, no? Raga, meno male che li hanno inventati questi biscotti, perché sono, l'ho già detto, dai basta, io non voglio più rompere. Provateli, se li provate a fare, cercatemi su Instagram o su Facebook, vi lascio qua altri due video, se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale, se sono giusto, come orientamento, e attivando la campanella delle notifiche rimanete sempre aggiornati sui nuovi video. Invece qua sotto trovate il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta, prontosi, ingredienti e procedimento. Ci vediamo molto presto, io non vedevo l'ora di finire così, proprio, stavo soffrendo proprio, dovevo finirlo. Gelido, questo gelido proprio, questo non mi gusta tanto, no? Ciao!